Cosa sono i moduli digitali di Masterpact MTZ? I moduli digitali sono dei pacchetti software che possono essere installati nell'unità di controllo Micrologic X durante tutto il ciclo di vita dell'interruttore. L'interruttore può essere acquistato già con i moduli installati oppure questi possono essere installati in un secondo momento attraverso la porta micro USB su Micrologic X. I moduli digitali sono di tre categorie, misura, protezione, diagnostica e manutenzione. Per accedere alle funzionalità dei moduli digitali è sufficiente l'utilizzo della app di Masterpact MTZ. Ad esempio, se volessi conoscere energia per fase, vado nella pagina misura, scendo fino alla voce energia e posso conoscere l'energia ripartita per le singole fasi. Tutte queste informazioni sono condivisibili in qualunque momento attraverso il tasto Share.